Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati sul canale, qui è xxjohn che vi parla e stasera siamo tornati su Warzone per farci un bel game su occupazione, come ieri. Andiamo a utilizzare il solito M4, il nostro bellissimo Lackman buildato come vi faccio vedere un attimo. Ieri non vi ho fatto vedere, questa è la build del M4 e questa è la build dell'Lackman ok, speriamo di fare un buon game e ci vediamo tra pochissimo. Ok ragazzi, eccoci qua, per l'appunto vogliamo un attimo di procedere a dovere, fare il più che possibile e soprattutto vedremo alla fine il risultato, se gli alleati avranno fatto un buon lavoro o meno, questi mi sembri hanno abbastanza non è vero, non è vero. Siamo ancora avanti mi sono venuti i ragazzi col teleno tattico per l'appunto è un attimo, sicuramente questa è una buona build è un attimo un altro si saluta è questa con questa ragazzi ma poi c'è l'allia c'è uno sull'altro c'è altra gente cerchiamo di ok ok ci trucchiamo un attimo arriva una storm oddio ringrazio oh no l'ho confermato all'ultimo purtroppo sono morto mi butto qui mi butto lì perchè è più più safe più tranquillo per rendarsi e recuperare tutto quello che ci serve per affrontarli è tornato in campo ben fatto i rinforzi sono in arrivo vediamo se me la confermo ok ottimo il rischio stiamo attaccando bravo c'è uno no muoio ve lo giuro ve lo giuro i gambe non marchi questo qua cecchino in mano ve lo giuro non sarei già morto un compagno è tornato in squadra tutti qui dentro insomma sta passando via ok andiamo a castigati in questo modo no soldato nemico in arrivo speso eh speso stanno giocando la vita tutti eh attenzione il rischio si 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 stai parlando di un team ma non stai parlando solo scuola non mi hanno interessato in momento ok si recuperiamo un attimo ok fortunatamente non mi ha ucciso ah cavraccio peccato peccato avevo finito i colpi peccato peccato ah vabbè raga non serve giocartola sinceramente 32 bombe pulite raga un altro game con 22 bombe super super pulite è andato super bene questo game che dire raga io vi ringrazio del supporto ovviamente lasciate un bel like e un bel commento quando il video ha più persone possibili detto questo raga ci vediamo domani con un appuntamento di minecraft ok ci vediamo domani con un appuntamento di minecraft e vediamo un attimo se sarei visto in un attimo questo video che video portarvi ecco grazie di tutto e alla prossima ciao ragazzi